L'entrenamento è stato un hobby intensivo, vorrei l'ultima luna, non ho visto l'ultima luna in me, ma ho partecipato, incluendo i classificatori, in quattro tornei, una mia sera totale di due combattie. Ora mi sono molto cansata, ma mi chiede ad un turco, per me portare l'agresa qui, e grazie a Dio. A me vi in dicembre con la mia famiglia, per me sei, mi tata in Corea per 2-3 luna, facendo preparazione fisica, solamente. Per me sei, ma vien a rubare 10 dias per passare a Pasqua con la mia famiglia, e per me sei, ma di januari, ma salgo a Cuba, dove noi faccio un entrenamento di una luna, con topes, con un entrenamento tecnico-tactico. e poi ci sono le parti tecnico-tactico per incorporare tutte le cose, anche le competenze, e tra le parti psicologiche. Una mi va a US Open, ma perdere la quarta finale per un punto. Desperd'una mi va a Turkish Open, una ma si 5 combattis, ma llegate al finale, ma perdere la finale per un punto. Puglera, una prima che è molto bronce di medaglia olimpica di Londra una combattata da Hopi Pareo, che non mi ha mai sicurato di me mi ha fatto, lamentablemente, da due punti che mi ha fatto qui con un'esperienza con un'esperienza di medaglia di bronce olimpica ma questa è una donna mi informazione di che mi ha fatto migliorare, che mi ha fatto quindi non si vedi 10 giorni prima del classificatore, ma vedi a Aguas Calientes per adattare, passare in altra altra, facare ultimi ajusti, peso e tutto questo va bene, mi lavoro per questo ma mi adrienta, mi combattano, basta tranquillo, mi ti chiede e al promedio è stato un ticchi nervi, però è stato normale ora quando mi sali mi ha dato un grito di alivio, di felicità non per a quere come è logro il sentimento è tutto, Hopi, è incredibile ma mi ti chiede un personaggio, il video è una mia motivazione che mi ha dato il progresso con un avanzamento dell'ultimo tempo, è stato un lavoro di Hopi Luna, Hopi Ayan però l'ultimo tempo, mi non c'è qualcosa di cambiare che mi rende più sicura di combattere e con la mia vita, mi provi sempre a disfrutare di ogni combattio quindi, se mi vuole prendere sempre e mi cosa mi dice, no, no, no descansare un po' e andare a restare ma, mi piaccia è un altro passo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.